Una rete di strozzini è stata scoperta dopo quasi quattro anni di indagine dalla squadra mobile di Agrigento. Questa mattina nove persone sono state arrestate nell'ambito dell'operazione denominata Easy Money che ha permesso appunto di sgominare un gruppo criminale che per anni ha vessato decine di persone imponendo loro tassi usurai che oscillavano dal 120 al 600% annui. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Agrigento e l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei nuovi soggetti è stata emessa dal GIF del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto. Gli arrestati sono Roberto Melfa di 45 anni, Antonio Alfonso Zambito, padre e figlio di 61 e 38 anni, Carmelo Filippazzo di 45 anni, questi di Portempedocle e ancora gli agrigentini Pietro Anastasio Natale di 41 anni, Massimo Zicari di 37 e Salvatore Falzone di 41 anni ed infine Palmesi, Calogero Bordino di 51 anni e Antonio Di Vincenzo di 49. Il risultato odierno si è arrivati a seguito delle indagini scaturite da una serie di minacce anonime ricevute dall'ex sindaco di Portempedocle Paolo Ferrara. Ascoltato più volte dai poliziotti della mobile che cercavano di trovare una spiegazione a quei gesti intimidatori, Ferrara ha raccontato di essere finito nella rete degli usurai e verosimilmente, anche se al momento per i nuovi incriminati è contestato soltanto il reato di usura, quelle minacce erano da inquadrare in tale contesto. Ferrara era finito nella rete degli strozzini arrivando ad accumulare debiti per centinaia di migliaia di euro che lo hanno costretto anche per coprire tali buchi a vendere due immobili di sua proprietà. Uno venne ceduto a Zambito ed un altro venne venduto ad un terzo ed il ricavato della vendita utilizzato per saldare parte del debito. Ma i racconti hanno delinato anche un quadro più ampio con le indagini che hanno portato alla luce altre decine di casi simili con altre vittime ridotte all'astrico a causa della condotta illecita possene essere dal gruppo criminale. Contestualmente agli arresti è stata data anche esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni a carico degli indagati per somme superiore a 600.000 euro individuate presso alcuni istituti bancari della zona. Nel corso della conferenza stampa tenuta alla procura di Agrigento è stato sottolineato dal procuratore Renato Di Natale come siano sempre di più le persone costrette a rivolgersi agli usurai e come siano invece ancora molto limitati i casi di collaborazione con le forze dell'ordine da parte delle vittime. La difficoltà di accesso a credito è una delle ragioni che intucono taluni soggetti a preferire altri sentieri o altre vie per ottenere dei prestiti. Prestiti che poi per gli elevati tassi si traducono in difficoltà enormi per le vittime che non possono più pagare quelle che sono le somme che sono state loro erogate. Il numero notevole dei parti offesi che abbiamo individuato ci ha convinto che in questa provincia in particolare ci siano difficoltà per imprenditori o operatori economici di accedere regolarmente al credito presso gli istituti bancari. Chi dovesse avere questo tipo di difficoltà è quello il messaggio che vogliamo lanciare, non ricorra a vie brevi che poi si risolvono esclusivamente in un danno per chi lo fa ma si rivolgono alle istituzioni sia denunciando sia rivolgendosi a quegli istituti e quelle previste dalla legge che danno un aiuto e un sostegno a chi si trova in difficoltà finanziaria. Grazie. Grazie. Grazie.